I'm not afraid of the police Do 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 today Buongiorno Questo... no Dov'è? No, non c'entra un cazzo Com'è sto? Ah, eccoci qua Buongiorno Questa è una tipica mattinata tedesca della mia recente vita Io normalmente mi alzo da questo letto qua in una condizione pietosa anche perché come vedete non ci sono serrande quindi appena fa luce ci si sveglia e al nord fa luce prima bastardi Poi cerco disperatamente di entrare in questo bagno Mi aggancio a questa maniglia che trovo regolarmente chiusa e perché? My roommate Dirk Introducici te stesso Dirk Dirk Dicci qualcosa ok questo è il personaggio che regolarmente è qui dentro e allora io cosa faccio torno a dormire nel mio lettino a palle all'aria e aspetto che il tempo passi solo che il personaggio che adesso transiterà verso la doccia ok you can go if you want to go to the toilet no problem il personaggio che transita verso la doccia ci sta mezz'ora quella merda e tipicamente prima della doccia io devo anche pisciare e allora me ne vado fuori in questo bellissimo back garden a fumarmi la mia sigarettina e a bermi il mio caffè è una settimana che ci siamo dimenticati di comprare lo zucchero quindi vado avanti a caffè latte amaro che oltretutto vabbè e comunque anche se adesso voi non lo vedete perché la luce non è bilanciata devo dire che il posto qui è molto carino silenzioso abbiamo il back garden back yard back yard e sentiamo gli uccellini oggi le giornate sono buone un periodo che veramente c'è un tempo esagerato vabbè insomma e questo è il nostro back yard io non ho freddo io non ho freddo io non ho freddo the police today to dedu dedu dedu